buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata ai principali titoli azionari del fuzzimi anche quelli più richiesti su investing se invece volete ogni sera dopo la chiusura di piazza affari la mia video analisi e chi nasce su tutti e 40 i titoli la trovate nella chat room privata vi sto facendo sbirciare cosa c'è in questa chat room privata all'interno della trading zone l'accesso è gratuito ci sono solo questi servizi premium ma per il resto è tutto grazie guardate quanti messaggi nelle varie chat room info e adesioni che vi rimanda al mio sito internet che vedete anche sopra scorre nel ticker in alto con tutti i vari miei social network dove potete contattarmi e quindi ogni sera avete la possibilità di ricevere il video eccolo qua e poi grafici e commenti e mie considerazioni durante la giornata per esempio adesso leonardo che continua la cavalcata dopo più 16 di oggi ancora più 3 per cento nel mio sito trovate le varie opzioni di abbonamento che sono adesso scontate del 50 per cento fino alla fine del 2020 e non solo per chi si abbona al semestrale gratis anche le video registrazioni di un corso che ho fatto con sulle mie strategie chi nasce ma non solo sui titoli ma anche su indici forex materie prime strategie multiday e intraday venite dai 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 che ci divertiamo andiamo a vedere qui performance pazzesche sui titoli azionari ieri con questa notizia del possibile vaccino pfizer oramai sapete tutto benissimo sotto il grafico un minuto sopra quello di tendenza giornaliere chi nasce che ci dice Eni grazie al petrolio che è schizzato in alto alla notizia con la notizia del possibile vaccino e siamo a più quasi 17 punti percentuali con i 7.52 toccati 529 toccati questa mattina verso in proprio in apertura vedete alle 9.04 sta approcciando l'ex area di supporto che potrebbe fare da resistenza ma il semaforo è verde a favore dei rialzisti così come anche su intesa che porta 20 punti percentuali il rialzo dalla candela verde del 2 novembre e si avvicina sempre di più alla resistenza 1.89.72 che dire di unicredit anche qui quasi 20 punti percentuali il rialzo e soprattutto sta andando oltre quello che è stato l'ostacolo 7.481 e poi più in alto c'è 8.50 telecom italia oggi c'è il cda per il momento invariato ritoccato di poco anche il massimo di periodo dalla candela verde anche qui 2 novembre quindi dal 3 novembre siamo a quasi 12 punti percentuali in piena fase di test del livello 0.3364 intesa anche fiat scusate tocca i 12.086 adesso siamo leggermente sotto i 12 euro sono 10 punti percentuali da quando c'è stata questa inversione il livello più in alto da monitorare 12.666 euro grazie ci vediamo nella trading zone buona giornata a tutti